benvenuti in un nuovo video oggi vi voglio mostrare cosa c'era in un pacco molto molto particolare della sephora e precisamente questo qui e che mi è arrivato un po di tempo fa tra l'altro una settimana circa e che se non mi sbrigo a farvi vedere le cose perché mi piace farvele vedere comunque belle intonze come sapete deciderà di auto spacchettarsi e quindi inizieranno a prender piede tutte quante le cosine e spariranno quindi mi devo seriamente muovere a farvi vedere le cose la prima di tutto vi voglio mostrare attenzione danni vi voglio mostrare uno uno dei miei rossetti liquidi preferiti in assoluto assieme a quelli della irsa loran che sono diciamo proprio la top questo qui questo qui è il melted della too faced e questo è nella colorazione candy ed è molto molto bello quindi questa qui la scatolina e questo è il il prodottino io di questo qui ho il fucsia che è qualcosa di spettacolare e la cosa che mi piace di più in assoluto di questi di questi rossettini liquidi e che a parte vabbè anche chiusi hanno un profumo particolare a me sono tipo di ciliegia di qualcosa del genere qualcosa di molto goloso comunque e dicevo la cosa che mi piace di più in assoluto è che una volta applicati sulla sulle labbra danno un finish vellutato e non seccano le labbra cioè anche se comunque sono della dei rossetti a lunga tenuta non vanno a seccare le labbra e quindi per una che tende ad avere labbra molto molto secche sono diciamo una cosa molto molto interessante inoltre mi piace anche tanto ho l'applicatore perché appunto questa spugnettina qui che permette di non sprecare assolutamente prodotto e tra l'altro una chicca che vi dico è che questa anche se voi non volete mettere il rossetto però magari volete giusto dare un tocco di colore alle vostre labbra voi prendete questa spugnetta che già sporca l'andate a picchettare o comunque diciamo a appoggiare sulle labbra e anche se non c'è il colore in quel momento non avete fatto fuori uscire colore ma c'è diciamo il colore dell'applicazione precedente la spugnetta rilascia quel giusto quantitativo di prodotto da far sembrare le labbra leggermente più più colorate più rose e però molto molto naturali cioè come se aveste magari morsicato morsicato come mi uscito morsicato morsicato le labbra o comunque le aveste passate così no che tendono a fare appunto fuoriuscire quel colore in più e quindi questo qui è un bellissimo un bellissimo prodotto e questo colore è proprio un color ciliegia fragola molto molto bello per questa stagione primaverile poi poi un altro prodotto molto molto interessante tra l'altro che io stavo un po guardando da da tempo è questo qui questo qui è della Dior il rossetto della Dior il Dior Addict Extreme questo appunto è un rossetto molto molto brillante infatti è un lasting lip color radiant shine e in particolare il colore il 476 plaza ed è un colore stupendo questo qui è il rossetto in questione vabbè che cosa dire del packaging che è qualcosa di spettacolare cioè la Dior fa questi packaging che sono cioè un gioiello bellissimo un colore che sembra un fucsia così visto ma in realtà è un tra un colore carne e appunto un fucsia io provo a farvelo vedere così sulla mano ed è questo qui quindi potete vedere che è veramente veramente lucidissimo cremosissimo vedete c'è proprio qualcosa di di molto molto cremoso molto molto specchiato un effetto veramente io lo metto così su no senza specchietto senza senza nulla proprio perché cioè è similissimo al colore delle mie labbra e dà giusto quel tocco in più di luce di di turgore proprio no alle alle labbra che a me piace tantissimo sempre rimanendo in tema labbra due altri prodotti e la voce se ne va a passeggio due altri prodotti che io non avevo mai mai provato cosa sarà mai? è il lipstick della Nars appunto in particolare è scusate la voce ma va via quando cambia il tempo a me va via la voce chi soffri di fare in giro come me lo saprà quindi dicevo in particolare è presumo sia il 1020 o 1020 comunque il Niagara come colore ed è appunto questo lipstick rouge à l'oeuvre questi qui intanto è bellissimo comunque il packaging che è tutto nero sembra tipo appunto in velluto con questa scritta qui Nars che è bellissima anche qui molto molto bella anche la dimensione la dimensione è molto bella da pochette direi proprio e questo il colore appunto Niagara è questo bellissimo bellissimo color carne un bellissimo nude dal video sembra assolutamente più pescato ma adesso provo a sbocciarvelo un attimo eccolo qui ed è proprio questo nude si vira un po' sul pesca effettivamente è un nude che vira sul pesca però non così pesca come sembra e ripeto è diciamo proprio il colore delle mie labbra ed è un colore spettacolare bellissimo sia da mettere da solo sia con sopra questo un gloss sia la sera quindi sia con un trucco molto molto intenso sugli occhi ma anche con un trucco veramente etereo perché dà giusto quel colore alle labbra spettacolare molto molto idratante devo dire la verità e rimane abbastanza abbastanza matt non è completamente matt perché comunque rimane un po' più lucidino però non è uno sheer quindi è un matt è un semi matt diciamo così molto confortevole tra l'altro abbastanza durevole io devo dire la verità questo qui l'ho già provato è l'unico prodotto che ho già provato e quando l'ho messo l'ho tenuto su tutta una mattina senza mangiare ero al lavoro ed è rimasto lì perfettamente a pranzo non l'ho tolto perché volevo vedere effettivamente cosa succedesse a questo rossetto e nonostante io abbia mangiato come Dio comanda diciamo che è andato via però prima di tutto in maniera uniforme cioè non lasciando magari chiazze o al centro sia i bordi no però ho lasciato un velino di colore anche considerate che è dello stesso colore delle labbra quindi diciamo non si nota questo aiuta parecchio però quel velino di colore in più comunque c'era ed è molto bella questa cosa quando comunque un rossetto molto confortevole che non è di quei matt tipo non so per capirci della MAC non so un Ruby V qualcosa proprio di quei retro matt quindi quando succede questo con dei rossetti molto confortevoli molto idratanti è veramente bello molto 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 bello quindi questo qui è un rossetto che mi è piaciuto tantissimo questo qui è il Velvet Matte Lip Pencil nella colorazione Dragon Girl 2457 ed è questo qui allora adesso questo colore è qualcosa di pazzesco cioè veramente pazzesco io ve lo faccio vedere cioè è qualcosa che più bello non si può è esattamente il rosso che piace a me oddio è partito il tappo è proprio il rosso che piace a me è un rosso fragola matto totalmente matto quindi ha proprio questo effetto velluto sulle labbra e freddo quindi da un sottotono diciamo sul sul blu e quindi è stupendo sulle labbra sia perché fa risaltare tantissimo proprio da proprio una luce una luminosità all'incarnato spettacolare e poi essendo freddo fa tantissimo risaltare il bianco dei denti e anche per un piccolo trucchetto se avete diciamo i denti che tendono ad avere una pasta più giallognola usate dei rossetti freddi perché risalterà tantissimo il bianco cioè farà sembrare i vostri denti molto più bianchi rispetto a quelli che sono e quindi veramente stupendo cioè è qualcosa di di pazzesco è un colore veramente veramente bellissimo bellissimo bello pieno carico e quel rosso da da serata cioè da una cosa importante molto chic molto molto questo qui è una sorta di combo e in particolare si chiama and god created the woman quindi e dio creò la donna il l'83 13 dove praticamente è scritto qui ragazzi io sono anche cieca praticamente trovate all'interno questi tre prodotti quindi trovate una palettina un pennello angolato molto morbido molto molto carino che è da borsetta diciamo se anche da viaggio sono molto carini questi pennelli molto piccolino vedete diciamo e poi una mini porzione del primer della NARS che so che praticamente è chiacchieratissimo è super super diciamo utilizzato perché sembra che appunto faccia tenere gli ombretti tipo non lo so un'intera vita voi lo mettete su e poi vi rimangono voi potete fare quello che volete anche tuffarvi nell'oceano pacifico rimangono lì perfetti anzi diventano ancora più belli vabbè e e quindi dicevo questi due prodottini qui quindi è molto interessante perché si può provare questo per vedere come reagisce sulla propria palpebra perché ovviamente un primer buono quanto sia dipende da palpebra a palpebra e poi la sostanza proprio sostanza è questa qui questa palettina che è bellissima cioè come potete vedere è piccolissima che ci sta in una mia mano che le mie mani sono tipo quelle delle bamboline ed è veramente stupenda adesso ve la faccio vedere c'è lo specchio quindi ve lo copro questa aspettate che non vedete niente perché c'è la folla protettiva ok ed è questa qui questi qui sono i colori spero che riusciate a vederli bene ecco allora questo è un rosa sì un rosa pesca un albicocca perlato non perlato diciamo satinato ecco un satinato questo qui è un color tortora veramente bello matt sostanzialmente questo è un colore stupendo non saprei descriverlo è tra un marrone un oro un mogano cioè veramente c'è un po' di tutto ed è super super brillantato quindi è spettacolare questo invece è sempre satinato ed è più un bronzo un bronzo rosato questo è un matt marrone e questo qui invece è un nero con un tra l'altro direi anche una punta di di rosso e di di blu con dei brillantini dorati pensate voi che cosa vi ho detto un nero con una punta di rosso una punta di blu e brillantini dorati cioè che colore può mai essere una cosa di spettacolare che è questo qui vedete questi due sono pazzeschi questo e questo perché sono super super brillantati cioè impazzisco voi sapete la mia fissa con le cose che luccicano quindi questa è una palettina stupenda anche perché è veramente veramente interessante considerata la dimensione da portare in viaggio quando ci si sposta perché appunto ci sono un po' tutti quanti i colori quelli molto chiari quelli un po' più scuri per creare tutti i vari i vari look del caso e insomma questi qui erano le cosine che c'erano nella scatola della sephora che stranamente non si è autodecomposta per l'attesa si è un po' annoiata io mi sarei annoiata poi è stata in lei e niente spero di di avervi mostrato qualcosa di interessante vi ho dato qualche qualche spunto interessante magari su qualche prodotto che anche voi eravate curiosi di provare se avete qualche domanda a riguardo giù nell'info box se avete qualche prodotto magari della Nars stessa oppure di altre marchi da consigliarmi o che vorreste che io provassi per poi darvi diciamo il mio parere ovviamente tutto giù nell'info box io sono giù e niente spero di avervi tenuto compagnia al prossimo un po' Grazie a tutti.